Tragedia in zona industriale a Marcon, bambina di nemmeno due anni, di mogliano dimenticata per ore in auto dal padre, morta per le alte temperature, la macchina parcheggiata sotto l'azienda, inutile la corsa all'ospedale. La tragica scoperta da parte di alcuni passanti intorno alle 14, il papà doveva portare la filoletta all'asilo alle 8 del mattino ma se ne è scordato e si è diretto a lavoro alla Lodes di via Pialoi. Inchiesta per curizione che ha investito l'amministrazione comunale di Venezia dal carcere di Padova, Boraso annuncia le sue dimissioni da assessore. Sono stati anni difficili ma ora giustizia è fatta, così il padre della giovane e della castellana trevigiana abusata dallo zio da quando era ragazzina è stato condannato a 7 anni di reclusione. Due furti nella notte a Sant'Andrà di Povegliani, ladri in entrambi i casi, sono entrati con le famiglie presenti in casa, tanto spavento ma bottino ridotto. A Treviso arrivano 59 videocamere di sorveglianza comunali, saranno installate entro l'anno e copriranno tutti i quartieri anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Nuova ondata di maltempo in arrivo in Veneto, dalla tarda mattinata di domani progressivo aumento dell'instabilità a partire dalle zone montane, attesi temporali, grandinate e forte vento. Ben trovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Cronaca che ci porta subito con la nostra Anna Maria Parisi a Marcon per una tragedia che si è registrata nel primo pomeriggio. Una bambina morta, dimenticata in auto. Tutti particolari, buonasera Anna Maria. Sì, buonasera Cristian. Eccoci con le immagini di Renato Capoia. Ci troviamo in via Piauloi 32 dove si è verificata la tragedia, si è consumata questa tragedia qui in zona industriale a Marcon. Oggi pomeriggio verso le 14 la scoperta, come dicevi tu, con il papà che ha avvisato dai colleghi si è accorto di aver dimenticato la figlia di appena un anno per ore chiusa in macchina con la bambina morta dopo sei ore di agonia per il troppo caldo nell'abitacolo. Avrebbe dovuto accompagnarla all'asilo nido alle otto ma se n'è scordato. Per tutti i dettagli allora è la ricostruzione di quanto è accaduto oggi nel servizio a seguire e poi ci sentiamo più tardi per ulteriori aggiornamenti. Sono stati i colleghi del padre a lanciare l'allarme, ad accorgersi che quella bimba chiusa nell'abitacolo dell'auto non ci doveva stare. La corsa disperata dell'uomo e la mobilitazione dei soccorsi non sono stati però sufficienti. La piccola, un anno e mezzo appena, ormai era priva di vita. Troppe le ore trascorse nella canicola di luglio, in giorni record sul fronte delle temperature. La mobilitazione nel primissimo pomeriggio nel piazzale della Lodes, azienda nell'area industriale di Marcon, in via Pialoi. Sul posto, vista anche la calura, ci sono solo i lavoratori, probabilmente in pausa pranzo. Ho visto l'ambulanza, ho sentito l'ambulanza, verso l'uomo penso che no. In base a una prima ricostruzione il decesso sarebbe stato causato da un tragico errore. Il padre, residente a Mogliano, andando al lavoro avrebbe lasciato la piccola in macchina anziché accompagnarla all'asilo dove era attesa alle otto. Probabilmente una tragica dimenticanza, un blackout della mente. Di certo la bambina è rimasta troppo tempo nell'abitacolo, diventato incandescente nel corso della mattinata, una vera e propria trappola, un'agonia forse lunga, sei ore. Non sono nemmeno le 14. L'ambulanza del 118 arriva in pochi minuti e porta la piccola d'urgenza al pronto soccorso, ma già non c'era più nulla da fare. Gli specialisti dell'Ulsa 3 si stanno ora concentrando sul fornire supporto psicologico alla famiglia. Una notizia che strappa al cuore, commenta il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, una precisa richiesta arriva invece da Matteo Romanello, sindaco di Marcona, cittadina già provata dalla tragedia di Alex Marangonna. Chiedo a tutti di astenersi da qualsiasi commento che in questo momento sarebbe senza alcun dubbio fuori luogo. Sono sconvolto per la dinamica di questo tragico evento e sono vicino alla famiglia in questo momento difficile. Le parole del primo cittadino. Una prima indagine chiaramente in corso, i carabinieri si stanno muovendo con cautela. Anche noi ritorneremo su questo fatto nel corso di questa edizione, quindi ritorneremo a collegarci con Anna Maria Parisi e Renato Capoia da Marcon per questo dramma che coinvolge una famiglia di Mogliano Veneto. Come vi dicevamo nella servizio, le indagini sono in corso a opera dei carabinieri di Treviso. E noi procediamo con la cronaca, entriamo in tribunale a Treviso dove nella giornata di oggi è stata emessa una sentenza particolarmente attesa. Uno zio condannato a sette anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti della nipote all'epoca dei fatti minorenni. Giustizia è fatta, dice il papà della vittima che è anche fratello dell'uomo. È stato condannato a sette anni di reclusione, l'uomo accusato di aver abusato per quasi sei anni della nipote, da quando appena undicenne venne inghiottita in un vortice di abusi e pressioni psicologiche, un inferno poi sfociato in una pesante anoressia. La sentenza di primo grado nel pomeriggio con il giudice che sembra aver accolto in toto la linea dell'accusa che aveva chiesto sei mesi in più di carcere. Presenti sia lo zio che la nipote, accompagnati dai rispettivi familiari, tra loro ovviamente il gelo sia prima che dopo il pronunciamento. A parlare con tutte le cautele del caso è il padre della vittima, fratello di quello che è stato descritto come un orco. Mi spiace perché mio fratello però la giustizia ha fatto il suo. Sono stati anni difficili immagino per voi. Difficilissimi, difficilissimi, difficilissimi. Sì, abbiamo sofferto molto. L'orrore tra il 2014 e il 2020 fino a quando la vittima si è tolta il peso confidando il motivo dei suoi disturbi alimentari alla psicologa della scuola. Sono così perché mio zio abusa di mail, racconto, presto diventato denuncia e cristallizzato in sede di incidente probatorio. Carezze, palpeggiamenti, autoerotismo reciproco sarebbero stati frequenti, sempre con la consegna del silenzio. La Corte ora ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro, mentre il risarcimento del danno sarà definito in sede civile, in attesa delle contromosse, della difesa, resta una famiglia disgregata e tante ferite da rimarginare. Adesso abbiamo cambiato casa, dovevamo cambiare la prima, poi mi sono ammalato. Sì, insomma, è stato un... di anni difficili. Adesso come state? Come sta la ragazza? La ragazza sta bene, questo è importante. Forse il fatto oggi di aver avuto giustizia può aiutare nel percorso. Esatto, esatto. Due furti nella notte a Sant'Andrà di Povegliano. I ladri in entrambi i casi sono entrati con le famiglie presenti in casa. Tanto lo spavento, ma bottino ridotto. Ho sentito mia sorella che chiamava Davide, papà, non capivo perché mi chiamasse e su quello che ho aperto gli occhi ho visto questa persona passarmi di fianco al letto e scavalcare il davanzale e buttarsi qui sopra il portico e poi qui sul giardino e un'altra persona qui dove adesso c'è il furgone con... che stavano scappando praticamente, quindi li ho visti così, passare di corsa. Lo spavento è stato abbastanza importante. Davide è uno dei quattro figli della famiglia Marconato che nella notte ha vissuto attimi di panico. Era da poco passata la mezzanotte quando dei malviventi si sono intruffolati al secondo piano della loro abitazione in vicolo Mazzini a Sant'Andrà e hanno tentato di rubare, ma hanno trovato una famiglia reattiva che li ha messi in fuga. Avevano da poco finito di cenare con degli amici e la signora Tania stava riposando sul divano in attesa di andare a dormire. Sento Davide, il figlio secondo, che grida e lì ho vissuto un momento di terrore perché ho pensato che stesse male, siccome l'anno scorso gli era capitato un malessere che era svenuto e la prima cosa è stato oddio adesso cosa è che è successo e sono arrivata su. Come sono arrivata dalla scala ho trovato lui, Chen, tutti i figli che vivono qui e lui tutti concitati, uno era scappato, è saltato, era uno e poi ce n'era un altro e questa è stata la dinamica. I minuti sono stati credo non cinque di quello che ci ha impiegato a raccontare, forse meno. Per dove sono entrati dobbiamo ricostruire, ma non è importante, è importante che stiamo bene e che non ci hanno toccato. I ladri hanno portato via un portagioia dal grande valore affettivo e un orologio della mamma, ricordo prezioso, ma la famiglia era già stata visitata nel 2015 da altri malviventi che avevano invece rubato molto di più. E nella notte un'altra famiglia del vicinato ha ricevuto una visita non gradita. Questa mattina mentre erano dai carabinieri a fare la denuncia è arrivata questa coppia che anche loro hanno avuto la visita, però loro si sono resi conto questa mattina quando si sono svegliati per andare al lavoro. Furti ma anche truffe, soprattutto ai danni dei più anziani. Un appello specifico, ma non solo, arriva dai carabinieri di Treviso. Magari, magari chiamassero, chiamino sempre che non disturbano. E' questo l'appello dei carabinieri sul fronte delle truffe agli anziani. Una volta di più dopo quanto è successo ieri ad uno dei volti famosi di Treviso e del Veneto. Giorgio Palesa, imprenditore che ha saputo per una vita evitare i grandi truffatori della finanza nazionale ed internazionale, è stato raggirato da un falso operaio dell'acquedotto e da un falso vigile urbano, con relativa sparizione di un Rolex da 30 mila euro, oltre a gioielli e preziosi vari. Vicenda che lui stesso ha voluto raccontare superando la comprensibile vergogna. Perché vorrei che non succedesse più agli anziani? E' una truffa agli anziani, questo non deve succedere, è immorale. Ma i dati in aumento segnalano una creatività costante. Sicuramente sono persone molto ben organizzate, non operano in forma isolata, individuano bene le vittime, talvolta questo avviene anche attraverso le informazioni che acquisiscono dai social, perché noi ormai rendiamo la nostra vita pubblica e nel renderla pubblica chiaramente diventiamo ancora più vulnerabili, perché loro individuano in maniera strategica le persone da avvicinare e da contattare e adottano degli schemi, peraltro sempre nuovi, innovativi e raggiungono talvolta l'obiettivo attraverso la vulnerabilità, che non è solo data dall'età o dalla solitudine, ma talvolta anche dagli affetti, dai sentimenti. Per questo anche a Treviso l'Arma dei Carabinieri ha presentato la campagna divulgativa di prevenzione e l'ha fatto non a caso al centro anziani di Via Calabria, dove in tanti raccontano le loro esperienze subite o sventate. Eccolo qua, il giorno 16 luglio, papà ho rotto il cellulare, mandami un messaggio su WhatsApp, il numero nuovo, che è questo numero qui, e io gli ho risposto, non col WhatsApp, ho pensato di avvertire i Carabinieri che se lo trovano mi avvertono su questo numero. Truffe digitali e truffe reali che possono essere sventate lasciando da parte vergogna e facendo gruppo tutti assieme. Questo per uno spirito di comunità, perché quello che intercettiamo noi se lo denunciamo non lo intercetterà poi magari un anziano più fragile di noi, un'altra persona, quindi se tutti siamo attivi non lo facciamo solo per noi, lo facciamo anche per prevenire magari la truffa a qualcun altro. Ecco dunque il volantinaggio dell'arma, ma anche i riunioni con gli anziani che attreviso si terranno nelle prossime settimane, mentre nei piccoli centri già ora vedono i Carabinieri incontrare i cittadini in una sorta di porta a porta preventivo. Ma allo stesso tempo un invito forte, che è quello di non aprire alle porte a nessuno, a estraneo, e chiamare al 112. Siamo ben lieti di rispondere, di arrivare sul posto e magari riuscire a impedire che queste cose orribili e meschine accadano. Intanto a Treviso arrivano 59 telecamere. Un maxi progetto da 200.000 euro per potenziare la videosorveglianza cittadina con 50 nuove telecamere che saranno installate entro la fine dell'anno in città e in tutti i quartieri. Un progetto finanziato per 75.000 euro dal Ministero dell'Interno e per i restanti 130.000 da proventi del Codice della Strada, messi da parte negli ultimi due anni da Comune e Polizia Locale. Salgono così a 250 gli occhi elettronici sulla città, che comprendono anche lettore targhe e sistemi multisensor, con un'ottica che controlla i luoghi a 360 gradi. Dieci di queste telecamere sono state piazzate anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, che sindaco e comandante della Polizia Locale invitano sempre a collaborare. C'è una grossa sinergia con i cittadini e credo che sia fondamentale, come l'ho ripetito anche recentemente, per il caso della baby gang dei parchi. Abbiamo ricevuto segnalazioni, ogni segnalazione viene portata avanti e presa in considerazione, quindi incontriamo i cittadini sul posto, valutiamo con loro quali sono i benefici per il posizionamento delle telecamere, quindi il rapporto con i cittadini per noi è fondamentale, che dico sempre, essere il primo sistema di videosorveglianza della città, gli occhi dei cittadini. Un tema della sicurezza da sempre prioritario nel mandato del sindaco. Lo facciamo attraverso investimenti importanti su tecnologie come le videocamere di sorveglianza, lo facciamo incrementando il personale della Polizia Locale, che è sempre in graduale aumento, lo facciamo migliorando le dotazioni date ai nostri agenti della Polizia Locale e lo facciamo rafforzando quella sinergia interforze con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza che sta portando dei risultati importanti. L'obiettivo entro fine mandato è quello di arrivare a 300 telecamere nel territorio comunale, quindi con un investimento di altri 100 mila euro per l'installazione di nuove telecamere. Ricordo anche che le telecamere esistenti vanno manutentate e qui abbiamo da poco stanziato 40 mila euro per aggiornare i software e per sistemare eventuali guasti, in modo tale che oggi tutte le telecamere posizionate nel nostro territorio siano funzionanti. Le telecamere saranno distribuite nel territorio entro la fine dell'anno, dopo la firma con il Ministero e la gara d'appalto che verrà fatta entro il 30 settembre. Sempre i temi della sicurezza ci portano a Castelfranco Veneto, con il Parco Due Mulini, ancora al centro del dibattito cittadino. C'è la denuncia del consigliere Beltramello, rubati soldi e cellulari durante il compleanno di mio figlio, ora servono sorveglianze e soluzioni, dice, ma risponde su questo l'amministrazione. Simbolicamente che in un centro di quartiere i ragazzi, mentre fanno i compleanni o si divertano, debbano stare attenti a furti o vandalismi, non è appropriato, non è giusto e bisogna risolvere questa cosa. La denuncia arriva a dritta dal consigliere Beltramello del gruppo Castelfranco Merita, al centro ancora una volta al Parco Inclusivo Due Mulini, da anni bersaglio di vandalismi e danneggiamenti alle strutture del centro. Situazione entrata anche nel dibattito dell'ultima assemblea comunale, dove è stato segnalato un episodio di furto durante la festa di compleanno del figlio del consigliere. Avevano lasciato i cellulari sopra il tavolo e poi alla fine, diciamo, quando si è mangiato la torta, che ognuno si è ripreso i suoi cellulari, due non c'erano più. In più, poi, quando sono andati a riprendersi gli zaini vicino ai bagni, purtroppo hanno rubato anche il denaro. Un fatto che apre un dibattito più grande, secondo Beltramello, sociale e politico. Il Parco dice a necessità di essere sorvegliato, più telecamere, più sorveglianza attiva. Richiesta che i volontari del centro muovono da tempo all'amministrazione e che stanchi della situazione hanno deciso di chiudere temporaneamente il Parco. Problemi di vandalismo, ma non di sicurezza, fa sapere il sindaco, che annuncia presso un incontro con il direttivo. Ci sono alcuni elementi che meritano essere approfonditi, senza nulla togliere al volontariato che rispetto a quel centro ha dato tanto, signora. Però è altrettanto vero che è l'unico centro che sta creando problemi e quindi bisogna approfondire, capirne le cause ed eventualmente individuarne le soluzioni. Dialogo difficile tra le parti, tra botta e risposta, ma la volontà di trovare un punto comune c'è. Purtroppo l'amministrazione di Castelfranco ha ritenuto di intervenire finora finché c'è stata questa escalation che ha portato ai volontari che gestiscono il quartiere a dire non ce la facciamo più. Credo che il tema oggi non sia sufficiente mettere telecamere per mettere in sicurezza questo luogo. Bisogna cercare di capire se il progetto è ancora valido rispetto a quel centro lì che si è sempre caratterizzato per essere un centro inclusivo e sembra stia andando nella direzione invece esattamente opposta. È la tragica notizia di queste ore, ve l'abbiamo data in apertura di questa edizione. È la prima notizia anche dell'ANSA a livello nazionale, questa bimba di Mogliano Veneto dimenticata nell'auto dal papà, morta di caldo nel primo pomeriggio in zona industriale a Marcon. E noi a Marcon ritorniamo per tutti gli aggiornamenti con Anna Maria Parisi e Renato Capoia. Buonasera di nuovo Anna Maria. Sì, ancora buonasera Cristian. La scoperta è avvenuta intorno alle 14, anzi per l'esattezza tra le 13 e le 14, la scoperta della tragedia con la morte della piccolina di poco più di un anno per il troppo caldo nell'abitacolo dell'auto dove era stata dimenticata dal papà. Il papà che ha parcheggiato l'auto proprio nel parcheggio della ditta dove lavora che si trova alle nostre spalle, dimenticando alle 8 del mattino quando è arrivato qui a Marcon da Mogliano di accompagnare la figlia al centro estivo, all'asilo nido del centro estivo prima di venire al lavoro. Quindi è arrivato qui alle 8, ha parcheggiato l'auto nel parcheggio privato della ditta dove lavora, sembra come magazziniere ditta che si occupa di sistemi di illuminazione e quando poi alle 14 o comunque ora pranzo, nella pausa pranzo, chiamato dai colleghi che si erano accorti della tragedia, ha scoperto che la figlia era nell'abitacolo e non al centro estivo, quindi era rimasta chiusa in auto per ben 6 ore. Inutile la corsa poi dei sanitari che sono arrivati allertati dallo stesso papà che ha chiamato anche in contemporanea le forze dell'ordine la bambina. Quando sono arrivati i sanitari hanno tentato più volte di rianimarla. Qui in via Piaoloi 32, in zona industriale a Marcon, era già morta. E con questa brutta notizia che non avremmo certamente voluto dare, con le immagini di Renato Capoia vi restituisco la linea. Ti ringrazio davvero Anna Maria a te e Renato Capoia per questa corrispondenza tutt'altro che facile. E si terranno sabato, un'altra tragedia purtroppo, sulle strade della marca di cui vi abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi. Saranno celebrati sabato ormai le funerali di Massimo Feletto, travolto e ucciso domenica sera da un'auto pirata. Continuano le indagini dei carabinieri. Mentre il cerchio si stringe intorno al conducente della Fiat Grande Punto Grigia che ha causato il tragico investimento di domenica sera a Ormelle, dandosi poi alla fuga, sono stati fissati i funerali di Massimo Feletto, 50 anni, rimasto ucciso nell'incidente, mentre versa in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Treviso la donna che era con lui, la sua badante, una quarantenne di origini marocchine. L'ultimo saluto a Massimo, affetto dalla sindrome di Down, impiegato da tempo in diverse mansioni nella struttura Casa Vittoria di San Polo di Piave, è fissato per sabato mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Tempio di Ormelle, dove era stato dato l'addio nell'estate 2022 anche al nipote Alessandro, 17 anni appena, morto in un incidente in scooter. I carabinieri stanno lavorando all'individuazione del pirata fuggito senza prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente sono rimasti lo specchietto della vettura e alcuni frammenti di vetro. L'ipotesi è quella di un residente della zona non trattandosi di strade di passaggio. Siamo stati poco fa a Marcon, di nuovo al centro della cronaca, cittadina che soltanto sabato aveva detto addio ad Alex Marangon. Tutti conoscete la vicenda con la famiglia che nelle scorse ore ha chiesto alla procura di Treviso l'esame del cappello su tutti i partecipanti al rituale. Etanolo, cannabinoidi come asci, semaruana, cocaina, morfina, metadone, buprenorfina. Sono tante le sostanze che possono essere individuate con il test tossicologico del cappello, esame che i familiari di Alex Marangon hanno chiesto venga effettuato su tutti i partecipanti al rituale sciamanico all'Abbazia di Vidora. Rispetto agli esami più comuni su sangue e urine, l'esecuzione del test tossicologico sul cappello garantisce una maggior finestra temporale, non un dettaglio visto che sono passate quasi tre settimane da quella maledetta notte. Siccome il tempo passa, noi riteniamo che alcune richieste andassero fatte. Ma la procura vi ha già risposto nel merito della richiesta di ieri? No, beh no, penso che poi non è neanche detto che ci devono chiamare per dire ok, facciamo il test. Se viene fatto sarà disposto a un incarico, lo sapremo, dobbiamo anche di parteciparci se possibile. L'unico finora sottoposto agli esami tossicologici di rito è stato il povero Alex. Dalle risultanze potrebbero arrivare altri elementi utili. Altro fronte è il delirio social che si è scatenato sulla vicenda e che ha portato i soliti leoni da tastiera ad andare oltre il consentito. Anche su questo non si esclude di coinvolgere la polizia postale per preservare sempre la memoria del giovane. Una valutazione tecnica che poi va fatta e sulla quale comunque però stiamo raccogliendo gli elementi. Certamente non ce ne stiamo a guardare. Operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Parliamo di falsi appalti nel settore delle pulizie, negli alberghi e nei ristoranti. Abbiamo scoperto falsi appalti per 10 milioni di euro nel settore delle pulizie in favore di alberghi e ristoranti, denunciando tre persone per somministrazione fraudolenta di mano d'opera ed emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di conseguire un indebito risparmio di imposti per circa 2 milioni di euro. A pochi giorni dall'operazione della Guardia di Finanza su falsi appalti nel settore del packaging, nuova indagine delle fiamme gialle di Treviso che hanno scoperto e bloccato una frode fiscale attuata tra il 2018 e il 2022 mediante falsi contratti d'appalto, questa volta nel campo delle pulizie per alberghi e ristoranti tra le province di Treviso, Belluno, Padova, Venezia, Vicenza, Pordenone, Udine e ancora Bergamo, Milano, Monza, Brianza, Varese, Bologna, Firenze, Lucca, Massa Carrara. Attraverso perquisizioni domiciliari, indagini bancarie e le testimonianze raccolte è emerso che gli indagati agivano come amministratori di 12 imprese con sede nel Trevigiano di cui 10 venivano utilizzate per assumere i lavoratori. Avevano formalmente in pancia i lavoratori, prevalentemente donne di nazionalità straniera, in un numero medio di circa 60 unità. si limitavano a fornire i lavoratori presso gli alberghi e i clienti. Sul piano però delle fatturazioni queste 10 imprese emettevano le fatture per le prestazioni dei dipendenti nei confronti di due società create ad hoc che si sono interposte tra le appaltatrici a monte e i clienti committenti a valle di questo sistema che abbiamo scoperto. Dalle indagini è emerso che le 10 imprese non hanno mai depositato i bilanci e hanno maturato debiti, contributivi e tributari per oltre un milione di euro. Dopo un breve periodo sono diventate inattive per poi essere sostituite con altre dalle medesime caratteristiche. Il fine di questa attività d'indagine è quello di impedire il proliferare di appalti non genuini, falsi, che sono solo lo strumento per mascherare illecite esternalizzazioni di mano d'opera. Prima di andare in pubblicità vi do un aggiornamento di cronaca, nel pomeriggio di oggi in Breda di Piave, lungo via dei Casoni, nell'area golenale, su indicazione di un privato cittadino i militari della stazione Carabinieri di Villorba hanno rinvenuto nei margini del greto del Piave un ordigno bellico inesploso, consistente in una bomba a mano di circa 10 cm di lunghezza, il luogo è stato delimitato e interdetto da segnaletica, la prefettura di Treviso con il terzo reggimento Genio Guastatori Udine stanno procedendo alla bonifica. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Ritorniamo in diretta per un'ultima ora di cronaca sindacale, c'è un allarme di Nicola Talmi, segretario generale SLC CGL Veneto. Si rincorrono voci di un possibile default per il gruppo Progest, uno dei più grandi gruppi cartari a livello nazionale di proprietà del trevigiano Bruno Zago, che pare non sia riuscito a onorare la scadenza di un importante prestito obbligazionario. Segue una lunga nota che ripercorre i numeri di questa importante realtà imprenditoriale, 27 stabilimenti in Italia, 14 in Veneto, 1.100 dipendenti. Quindi un allarme serio, facciamo appello, dice a Talmi, alle istituzioni a partire dalla regione del Veneto perché si attivi un tavolo di crisi per gestire questa delicatissima fase. E noi veniamo all'inchiesta di questi giorni, l'inchiesta per corruzione che ha investito l'amministrazione comunale di Venezia. Dal carcere di Padova l'assessore Boraso annuncia le sue dimissioni. Ha rassegnato le dimissioni, hanno fatto ricorrettezza di fronte delle istituzioni e anche per essere più libero di difendersi. L'assessore alla mobilità Renato Boraso ha deciso di rassegnare le dimissioni dall'incarico e lasciare Caffarsetti. L'ha reso noto il suo avvocato Umberto Pauro dopo l'incontro nel carcere di Padova dove è detenuto l'ormai ex assessore. Il legale non ha commentato la scelta ritenendola un atto dovuto. Oggi hanno depositato i documenti, la procura ha depositato i documenti in cancelleria e quindi ne abbiamo preso copia e quindi è stata consegnata al mio assistito. A Boraso, che è determinato nel volersi difendere, la procura di Venezia contesta 11 episodi di corruzione, concussione e autoriciclaggio dal 2015 a oggi. Tra questi figura la vendita a ribasso di Palazzo Papadopoli che vede coinvolti in un altro filone anche il sindaco Brugnaro e il suo capo di gabinetto Ceron. Per l'accusa Boraso, all'epoca assessore al patrimonio, si sarebbe fatto consegnare 73.200 euro dagli emissari dell'imprenditore cinese di Singapore. con fatture alla sua società Stella Consulting per consulenze inesistenti nel 2017 e nel 2018. Cifre poi girate ad altre due sue aziende. Domani è previsto l'interrogatorio a Padova. Le indagini stanno continuando. Aspetta l'autorità giudiziaria di individuare quelle patologie e distribuare eventualmente quelle che sono queste malattie dell'amministrazione, se ci sono queste malattie dell'amministrazione. La Procura della Repubblica sta lavorando, noi assistiamo a quello che è il lavoro dei magistrati. La carriera politica di Brugnaro è finita. Sentenza Massimo Cacciari. Le opposizioni pensino al 2025. Sentite. Con tutte le assolute presunzioni di innocenza che sempre sono doverose e ripeto senza che da parte mia mai vi sia stato il minimo sospetto di comportamenti meno che legittimi sia da parte di Borraso che da parte di Brugnaro per quello che li ho conosciuti. Premesso questo è chiaro che un sindaco che ha tanti e così complessi legittimi interessi da tutelare e da difendere si trovi in una situazione molto complessa quando fa il sindaco. Un imprenditore del calibro di Brugnaro non dovrebbe fare il sindaco. Lo pensa come lo sostengono in realtà in molti dell'opposizione da anni anche l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari che col primo cittadino ha avuto a che fare in più occasioni così come con Renato Borraso che fu presidente del consiglio comunale durante la sua legislatura. Uno può fare tutte le blind society di questo mondo, può fare tutto quello che vuole che rimane un personaggio imprenditoriale importante che ha interessi profondi e del tutto legittimi in ogni settore. Una persona che ha tanti e così diffusi interessi imprenditoriali è bene che non faccia il sindaco. Dopodiché altra cosa sono le accuse a Borraso che mi auguro davvero anche per amicizia e per simpatia con Borraso che si dimostrino infondati. Poi l'ex sindaco commenta la richiesta di dimissioni a Brugnaro da parte delle opposizioni a cui in aggiunta lancia un chiaro messaggio. Se non dovesse succedere niente che cosa dovrebbe accadere? Insomma perché onestamente dovrebbe dimettersi? Che le opposizioni pensino a questo punto di presentare una squadra, una candidatura decente tra un anno, si andrà a votare nel 25. La carriera politica di Brugnaro è certamente finita. Questo non c'è dubbio alcuno perché non sia il primo a saperlo e riconoscerlo. Non solo per questo ma anche per tutte le stupidaggini che ha fatto, il gruppo di moderati eccetera eccetera. Quindi è chiaro che ci sono tutte le condizioni per un cambio di guardia al Comune di Venezia ma dipenderà da come giocano perché se giocano come le ultime volte allora sono spacciati. E intanto chiama alla prudenza il presidente di Anci Veneto Mario Conte. Credo che la parola d'ordine sia prudenza nel senso che ci sono delle indagini in corso è giusto che venga fatta chiarezza e in questo momento io francamente non ho elementi per poter giudicare la vicenda. Spero che quanto prima venga fatto chiarezza, se qualcuno ha sbagliato come sempre è giusto che paghi se qualcuno non ha sbagliato è giusto che gli venga restituita anche la serenità. La questione sempre attuale degli autovelox torna a far discutere la questione sulla differenza a livello legale tra la dicitura omologazione e approvazione e torna all'attacco l'avvocato Capraro. Io mi auguro che il discorso finisca qui, che le amministrazioni capiscano che non possono punto primo scrivere che utilizzano strumenti omologati e ancor più che non evitino di fare dei falsi in atti pubblici. Denunciare penalmente gli autovelox, anzi i comuni che emettono le multe con la dicitura omologato segnalata nel verbale. Resta aperta infatti la questione sulla differenza tra omologazione e approvazione. Omologazione che carte alla mano non esiste perché i decreti attuativi che dovrebbero sancirla non sono mai stati fatti. Ne deriva che tutte le multe con la dicitura dunque sarebbero irregolari. Di qui la possibilità dei cittadini di fare ricorso al giudice di pace, condizione legalmente possibile che ora potrebbe avere ricadute a cascata in termini di ricorsi e denunce penali per falso in atto pubblico. Il falso in atto pubblico è quando si sostiene di aver utilizzato uno strumento che è stato omologato, quando sappiamo che questo non è. Io auspico che le amministrazioni si rendano conto della situazione e nel rispetto della legge spengono questi autovelox fino a quando il ministero competente non emitterà delle norme datuative. Autovelox non omologati, multe che continuano ad arrivare. La possibilità di fare ricorso, le spese processuali, il tempo che passa. Rimane però la velocità sulle strade. Necessario per questo agire in prevenzione utilizzando le nuove tecnologie. Attraverso la tecnologia oggi che si può montare sulle automobili, l'auto legge il segnale che è limite 30. L'auto si adegua, va a 30 all'ora in automatico, è limite 90. L'auto si adegua a 90 all'ora. C'è una cura pericolosa, può ralentare l'auto in funzione della pericolosità della cura. Ma non solo, può fare anche statistica di quelle segnalette che è o bossoletta o ingannevole perché possa essere sistemata per la sicurezza stradale. Nuova ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore in Veneto. Dalla tarda mattinata di domani, progressivo aumento dell'instabilità a partire dalle zone montane e pedemontane con probabili rovesci e temporali anche intensi con locali grandinate e forti raffiche di vento. Possibile estensione dei fenomeni dalla serata anche sulla pianura dove non si escludono locali fenomeni intensi fino alle prime ore di sabato. Alla luce di tali previsioni, il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 11 di domani alle 8 di sabato. È previsto il possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria. Quindi questa la fotografia ha a partire dalle 11 di domani mattina. E come preannunciato all'indomani della frana dalla stessa amministrazione comunale, il comune di Vittorio Veneto ha stanziato 10 mila euro di rimborsi per i residenti in fa d'alto, costretti a prendere l'autostrada per tornare a casa per aggirare la chiusura dell'Alemagna. La variazione di bilancio prevede quindi l'erogazione di un imborso, un attantum a sostegno delle spese che i residenti della Valla Lapisina sosterranno per la mobilità da e per la città di Vittorio Veneto. Si tratta del rimborso dei pedaggi autostradali, spiega la sindaca Mirella Bagliana, dal momento che l'utilizzo della 27 è per tutti al momento l'unica soluzione di mobilità. È una misura eccezionale e urgente che può solo in parte mitigare il disagio, ma almeno contribuire concretamente alle spese quotidiane dei cittadini. Così dunque il primo cittadino di Vittorio Veneto. Gli uffici stanno ora predisponendo le modalità di richiesta e di erogazione. Ovviamente è una questione che riguarda l'Alto Veneto, Vittorio Veneto, ma anche l'Alpago e il Bellunese. E noi adesso apriamo la pagina di Belluno. Multe con autovelox non omologati. Come vi dicevo, il tema è di attualità non solo nel Trevigiano, anche nel Bellunese. L'Associazione Nazionale Altvelox non si ferma e denuncia sia sindaco che ex prefetto di Belluno. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Omissione dati d'ufficio, frode processuale, falso e truffe. Altvelox, l'Associazione Nazionale tutela utenti della strada, ha presentato denuncia a querela nei confronti del sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, del suo vice Paolo Gamba, del comandante della polizia locale Antonio Codemo e di tre agenti, del segretario comunale di Belluno e dell'ex prefetto Mariano Savastano. Oggetto dell'iniziativa di Altvelox, le multe fatte con gli autovelox e della presenza degli stessi, che secondo l'Associazione non possono essere utilizzati sulle strade del capoluogo dove sono stati installati. Il presidente protempore di Altvelox spiega che la denuncia è stata presentata vista l'assenza di risposte alla richiesta inviata ancora il 1 gennaio 2021, con la quale si voleva una relazione che attestasse il numero di incidenti sulle strade bellunesi, comprensiva del numero di morti e di feriti. Nonostante i numerosi accessi agli atti, la relazione non è mai stata consegnata. Di qui la denuncia del presidente di Altvelox, che chiede anche che il ministro della giustizia, Carlo Nordio, valuti di inviare ispettori ministeriali nell'ufficio del Tribunale Civile di Belluno e di essere sentito in ordine ai fatti segnalati. Colata di detriti sulla ciclabile tra Cortina, D'Ampezzo e Dobbiaco nella zona di Pomagagnonna è accaduto ieri sera, mentre sulla zona imperversava un violento nubifragio. Stamattina il Comune di Cortina, in via precauzionale, ha emesso un'ordinanza di chiusura immediata del tratto interessato per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti e permettere agli operatori di intervenire prontamente per mettere in sicurezza l'area. I lavori di ripristino sono già stati programmati in forma al Comune per completare l'intervento entro l'inizio della prossima settimana. Quindi questa è la tempistica del Comune di Cortina-D'Ampezzo. Nuovo test IT Alert oggi fra le province di Belluno e Treviso. Ho simulato il collasso della diga della Stua. Siamo in Valla Canzoi, nel Comune di Cesio Maggiore, in 14 comuni lungo il Piave, 4 nel Bellunese e 10 nella marca trevigiana. L'allarme è arrivato direttamente sullo smartphone. Allarme, collassata la diga della Stua in Val Canzoi, nel Bellunese, allontanarsi dai corsi d'acqua. Per fortuna solo un'esercitazione, una prova annunciata del sistema IT Alert coordinata dall'assessorato regionale di protezione civile con il Dipartimento Nazionale diretto da Fabrizio Curcio. Il suono prolungato di allerta ha agganciato i cellulari di tutti i cittadini che si sono trovati anche solo di passaggio nel perimetro amministrativo dell'area individuata dal test. Tutti, tranne chi si trovava in Val Canzoi, ha fatto sapere l'assessore Giampaolo Bottacin che ha segnalato il problema noto dell'assenza di segnale proprio nella vallata della diga della Stua. Una conferma, spiega Bottacin, della necessità di provvedere e implementare la copertura telefonica nelle aree che il sistema individua di volta in volta per rafforzare la sicurezza in caso di reale emergenza. Il test ha simulato il collasso dello sbarramento e l'allarme è scattato in quattro comuni bellunesi Borgo Valbelluna, Cesio Maggiore, Feltre e Setteville e in dieci comuni del Trevigiano Crocetta del Montello, Giavera, Moriago e Nervesa Pederobba, Segusino, Sernaglia della Battaglia Valdobiade, Nevidor e Volpago del Montello. Per il Veneto si tratta del terzo test IT Alert dopo quello generale di settembre 2023. Nei prossimi mesi ne seguiranno altri due un primo a simulazione di un incidente rilevante che riguarderà uno stabilimento industriale e un secondo a simulazione di un incidente nucleare. C'è un importante lascito per il territorio bellunese quanto si è appreso oggi all'apertura del testamento della dottoressa Maria Grazia Amato ex primaria di anestesia e rianimazione del codivilla di Cortina morta nel 2022 a 88 anni che ha deciso di donare tutto il suo patrimonio di oltre 550 mila Euro al comune di Bologna al comune di San Vito di Cadore e all'ospedale maggiore di Bologna. In particolare i suoi appartamenti a Bologna e a Cortina d'Ampezzo sono stati destinati a case di accoglienza per le donne vittime di maltrattamenti e appunto i loro figli. Cambiamo decisamente argomento. Compie mezzo secolo la cronoscalata internazionale di velocità montagna Alpe del Nevegall. 50 anni di storia e di passione per un evento che lo scorso anno ha superato un doppio record. Motori infuocati per la cinquantesima Alpe del Nevegall e semaforo pronto a scattare sul rettilineo di Caleipo dove si disporranno i bolidi pronti a scalare i tornanti che conducono ai piedi del colle. È iniziato il conto alla rovescia per la gara automobilistica internazionale di velocità in salita valida per il campionato italiano di velocità in montagna. Stamattina la presentazione ufficiale a Palazzo Rosso. Abbiamo questo privilegio del cinquantenario della salita del Nevegall che il primo anno è partito a settembre del 1954 fino al 73 quando è successo un incidente che poi dopo si sono fermati dopo sono ripartiti circa 20 anni dopo e adesso siamo al cinquantesima edizione. Apertura il 26 luglio con le verifiche sabato 27 dalle 9 due mancia di prove ufficiali di ricognizione del percorso domenica 29 due mancia di gara. Al momento sono già un centinaio gli iscritti tra questi anche una decina di piloti stranieri austriaci e tedeschi in particolare. L'obiettivo è quello di bissare il doppio record italiano dello scorso anno quando alla gara parteciparono 265 piloti e gli organizzatori ebbero il miglior rapporto ispettivo. Una squadra grandissima fatta soprattutto di volontari che in questi giorni stanno allestendo il tracciato che quest'anno si presenterà al meglio per celebrare l'appuntamento d'oro della crono scalata con una attenzione particolare alla sicurezza. La velocità è importante per cui va protetto i piloti, va protetto il pubblico per cui tutto in sicurezza nel migliore dei modi. Da domenica in programma gli eventi che faranno da corollario la cinquantesima Alpe del Nevegall in collaborazione con il circolo automoto d'epoca Gidoni e la proloco castionese. In calendario la rievocazione storica della gara con i bolidi costruiti ante 1975, una mostra fotografica, l'esposizione delle auto da competizione giovedì e la notte dell'Alpe del Nevegall a Castion la sera prima della gara. Lo sport è sinonimo di turismo, di promozione del territorio e quindi io credo che anche questa manifestazione come ha sempre fatto vedere negli anni è questo quindi quello che ci aspettiamo, la risposta, un grande indotto economico in tutta la realtà, in tutta la città, quindi sotto la situazione quindi di esercenti, ma anche di alberghi e quant'altro. Abbiamo fino a Feltre tutti gli alberghi pieni. E adesso veniamo a noi alla nostra programmazione dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città. Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antena 3 la Santa Messa celebrata dalla Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia dalla Basilica della Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale dominicale di Treviso andrà in onda subito dopo la celebrazione. Questo quindi l'appuntamento domenica 21 luglio a partire dalle 19 come sempre ovviamente su Antena 3. E per questa edizione è davvero tutto. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.